Ehi, guardami, 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 questo qua, chi è stato? Ma che diavolo? Chi è stato? Il mondo è in casa in prigione. Si può sapere perché mi prendi i miei fazzioti e mi togli da là? Guardami, alza la testa. Sei stata tu? Ci ho messo nel ghiaccio per la testa. Chi è stato qua? Nel caso dovessi versare, copi là. Lo fai ancora? Basta? Lo fai ancora? Se lo facessi sarei io il pazzo. Chi ti scusa? Brutta? Allora, vi ricordate il gatto degli stivali? Ok. Non c'è solo il gatto degli stivali, come fa quella faccina lì da confazione, come dire, portami fuori, portami a fare un giro, capito? Cioè anche il cane da, come dire, portami anche a me, cosa fai? Mi portami anche a me o cosa? Sì, prendilo, ok? Lei viene. Diciamo, non dico la parola magica, non si muove. Quintaglio! Andiamo a fare un giro? Va, dai, vai, 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 fuori, vai, vai. Partita. È un cocker. Allora. Allora. Grazie a tutti